Il garante dei diritti delle persone con la disabilità ci aspettavamo che facesse sentire la sua voce e che intervenisse in merito a questa triste vicenda che si è verificato con l'annullamento del land bike e così non è stato nonostante le sollecitazioni anche dei giorni scorsi. Riteniamo che se il garante non interviene in momenti come questi non sappiamo quando deve intervenire.